Spettacoli teatrali in prima nazionale, laboratori, incontri, rappresentazioni, rivolte ai più giovani, momenti di riflessione sulla letteratura e sul teatro contemporaneo, performance d'arte. Un ricco menù per la settima edizione del Festival Miti Contemporanei che si terrà dalla 19 al 30 novembre prossimo, ideato e organizzato dalla compagnia Scena Nuda diretta da Teresa Timpano. Ancora una volta i protagonisti delle festival saranno i luoghi storico-artistici e i siti archeologici di Reggio Calabria e della sua provincia. Da quest'anno il Festival Miti Contemporanei apre le porte all'Europa e crea una relazione internazionale con la Grecia. Miti Contemporanei è un festival che affonda le radici nel mito ma rivisita e rivede i testi di nuova drammaturgia. E' per questo che con un grande slancio verso la città di Atene abbiamo creato una relazione, una contaminazione col teatro Column di Atene appunto. Per questo in prima nazionale lo spettacolo Giulio Cesare verrà a Bova in una delle sedi del festival che appunto ha una forza perché è itinerante, perché si svolge all'interno di borghi, siti archeologici, beni culturali importanti della città metropolitana di Reggio Calabria. Sì, sicuramente un altro dei festival triennali che hanno vinto il bando della Regione Calabria con alcune specificità molto interessanti. Intanto il tema del mito che appartiene culturalmente alla nostra terra, alla nostra tradizione culturale. Poi questa volontà di destagionalizzare gli eventi perché il festival ha una buona apertura con alcuni eventi nel mese di luglio, quindi nella piena stagione estiva, ma poi riprende in autunno ad ottobre con l'altro festival che è un'attività parallela e per concludersi poi nel mese di novembre con diversi eventi che vanno a coinvolgere i siti archeologici così come teatro, museo, quindi davvero la piena valorizzazione dei nostri beni culturali è un attrattore importante dal punto di vista anche turistico per la nostra Regione. Grazie.